Via Pasquale Stanislao Mancini. Siamo all'incrocio tra Via Flaminia e Via Pasquale Stanislao Mancini, una strada alberata a sinistra intitolata ad un giurista come tutte le vie di questa zona del quartiere Flaminio, che collega Via Flaminia a Lungotevere Arnaldo da Brescia. Guardiamo i palazzi sul lato destro della via. In fondo c'è un edificio rosa, è Villa Hélène, la casa dello scultore e pittore Hendrik Christian Andersen, innamorato di Mussolini, sia come uomo che come statista. Poi due edifici, costruiti nel 1924 dall'architetto Ghino Venturi, che mostrano tutto il repertorio del barocchetto romano. Bugnato, bassorilievi, stemmi araldici, putti, imponenti portali, bao window, torri angolari e così via, tutto rigorosamente in stucco. Nella prima palazzina abitava Giacomo Matteotti, parlamentare socialista, e da lì esce la mattina 10 giugno del 1924 per non farvi più ritorno. Infine, davanti a noi all'angolo con Via Flaminia, sorge un imponente palazzo in stile neobarocco, con monumentali altane, ingressi bugnati e logge colonnate, progettato dall'ingegnere Giulio Grà. Il palazzo è in cemento armato e presenta in chiave moderna l'immagine classica del palazzo gentilizio romano.